Ancora nessuna traccia di Luca Moretti. Il 26enne, scomparso da Rigutino lo scorso 26 maggio, cresce così giorno dopo giorno la preoccupazione della famiglia e degli amici. Da due settimane il cellulare del ragazzo, dopo aver squillato per alcune ore a vuoto, risulta completamente staccato. Le ricerche così proseguono senza sosta, portate avanti dagli inquirenti senza escludere al momento nessuna ipotesi. L'ultima cella canciata dallo smartphone del giovane nei pressi del casello autostradale di Battifolle. E proprio in quella zona si sono concentrate le ricerche dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Battute a tappeto le campagne tra Vicio Maggio e Pieve al Toppo. Al momento le ricerche però si sarebbero spostate anche ad Arezzo Centro. Luca si sarebbe allontanato da casa attorno alle 14.30 di quel sabato per incontrare un amico che poi nello stesso pomeriggio lo avrebbe riportato a Rigutino dove abita con i genitori. Ma a casa Luca non è mai rientrato e così i parenti hanno denunciato la scomparsa. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo al momento senza indagati con titolare il PM Marco Dioni. Quel 26 maggio Luca indossava dei pantaloni beige ed una maglietta è di statura media e di corporatura robusta, capelli castani e barba.